Prima Epistola di Giovanni, capitolo quinto Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che è generato, ama anche chi è stato da Lui generato. Da questo conosciamo che amiamo i figlioli di Dio, quando amiamo Dio osserviamo i Suoi comandamenti, perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è colui che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figliolo di Dio? Questi è colui che è venuto con acqua e con sangue, cioè Gesù Cristo, non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e col sangue. Ed è lo Spirito che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità, poiché tre sono quelli che rendono testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue, e i tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, maggiore la testimonianza di Dio, e la testimonianza di Dio è quella che gli ha resa circa il suo figliolo. Chi crede nel figliolo di Dio ha quella testimonianza in sé. Chi non crede a Dio l'ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha resa circa il proprio figliolo. E la testimonianza è questa. E Dio ci ha dato la vita eterna. E questa vita è nel suo figliolo. Chi ha il figliolo ha la vita. Chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio. E questa è la confidenza che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce, e se sappiamo che Egli ci esaudisce in quel che Gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che Gli abbiamo domandate. Se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non meni a morte, pregherà, e Dio gli darà la vita. A quelli, cioè, che commettono un peccato che non meni a morte, v'è un peccato che mena a morte. Non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, e v'è un peccato che non mena a morte. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca, ma colui che nacque da Dio lo preserva, e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio, e che tutto il mondo giace nel maligno, ma sappiamo che il figliolo di Dio è venuto e ci ha dato intendimento per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo figliolo Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita è eterna. Figlioletti, guardatevi dagli idoli.